L'Ateneo Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara entra nella classifica delle mille migliori università del mondo ed è l'unico Ateneo abruzzese tra le 41 università italiane inserite nella classifica pubblicata da QHES, il più prestigioso e selettivo dei ranking internazionali. Il rettore Sergio Caputi ricorda che l'Ateneo si sta fermando in diversi ranking mondiali, scalando tutte le classifiche, e che lo scorso anno la D'Annunzio è stata inserita tra le migliori 800 università del mondo nel The Times Higher Education World University Rankings, secondo per importanza nel mondo proprio dopo QHES. Un risultato che è frutto del lavoro di tutta la comunità della D'Annunzio, dai docenti al personale tecnico-amministrativo, evidenzia il professore Piero Di Carlo, delegato di Ateneo per il ranking. In base a quali criteri e parametri la D'Annunzio ha ottenuto questo riconoscimento e fa parte di questa classifica? Allora, i parametri sono diversi e sono diversi anche da ranking a ranking. In questo qui, QHES, il parametro importante è la reputazione, cioè ciò che dicono di noi altri colleghi nel mondo. Poi un altro parametro molto importante è il rapporto numero docenti-numero studenti, e noi abbiamo un rapporto eccellente per questo aspetto, quindi abbiamo tanti docenti che possono seguire in maniera capillare i vari studenti. Un altro parametro che viene preso in considerazione è le citazioni delle nostre pubblicazioni, cioè quanto il nostro lavoro di ricerca ha un impatto nella comunità scientifica. E poi anche l'internazionalizzazione, cioè il rapporto tra docenti stranieri e docenti italiani, un altro punto importante, cioè avere la capacità di attirare talenti anche oltre l'Italia, e anche il rapporto studenti stranieri-studenti italiani. Anche qui l'attrattività, cioè essere un'università in grado di attirare studenti dalle altre nazioni. Questo è un altro elemento importante che viene preso in considerazione in questo ranking. E quindi adesso il punto è migliorare, andare sempre avanti e cercare di scalarla questa classifica, perché questo poi è l'elemento importante. Nel momento in cui si entra, si è tra virgolette contenti, si è raggiunto un obiettivo, e adesso poi gli obiettivi sono sempre più ambiziosi, è quello di andare avanti e migliorarsi sempre di più.